amici benvenuti a questo nuovo vlog io sono fuori campo in questo momento quello che vedete inquadrato sono una nikon z6 e una canon c200 due oggetti completamente agli opposti che sembra un po strano vederli insieme ma avendo la c200 per una settimana per fare alcune video ho deciso di provare a fare un test un test di autofocus in particolar modo quello che mi interessava è il face detection che in entrambe le macchine è molto veloce le due macchine sono equipaggiate con un 35 mm f1.8 nel caso della z6 e f2 nel caso della c200 essendo due macchine una full frame la z6 l'altra una psc e abbiamo lavorato a livello di crop sulla z6 per ridare più o meno la stessa focale su entrambe quindi l'inquadratura è molto simile bilanciamento del bianco fissato a 5000 gradi kelvin full hd entrambe a 50 fotogrammi al secondo un cinquantesimo quindi le macchine sono praticamente quasi impostate lo stesso modo adesso io entro in scena e vediamo chi delle due mi riconosce e cercherò di muovermi per capire quanto il face detection funziona correttamente eccomi qua per facilitare la vita a queste due camere siccome dietro di me c'è uno sfondo con diverse cose problematiche mi sono anche piazzato una luce molto forte di fronte a me in questo modo sono entrambe in condizioni migliori per poter lavorare però queste non sono le condizioni in cui ci troviamo normalmente quindi il test che sto conducendo si basa sul fatto che c'è una luce molto forte che mi sta irraggiando io non ho modo di vederlo ma voi probabilmente lo state vedendo dalla registrazione dell'altra macchina che è una nikon d750 che sta riprendendo la parte dietro e probabilmente le macchine stanno tracciando il mio viso quindi adesso provo a fare alcune cose innanzitutto provo a muovermi semplicemente in avanti per vedere chi delle due mi regge e fino a che punto teoricamente hanno più o meno la stessa diciamo distanza minima di fuoco quindi vediamo chi delle due mi sta reggendo ok adesso inizio a andare all'indietro e vediamo chi è che mi regge io adesso sono molto lontano qui ci sono diversi oggetti intorno a me quindi non mi è dato sapere siccome non vedo il display se c'è qualcuno che mi sta tracciando oppure no faccio una domanda a Maurizio che è dietro di me Maurizio? Tutte e due mi stanno diciamo riconoscendo il viso in questo momento quindi torno nuovamente in avanti per un attimo Maurizio mi dice che la C200 ha avuto una defiance torno di nuovo indietro adesso inizio a fare delle cose un pochino più veloci quindi esco fuori campo e rientro velocemente in campo adesso mi abbasso e mi rialzo esco nuovamente fuori campo adesso entro lateralmente quindi il mio viso teoricamente non dovrebbe essere riconoscibile mi volto vediamo chi mi riconosce prima mi giro nuovamente da questa parte mi giro dietro mi allontano mi rivolto vediamo chi mi riconosce faccio questa cosa un po' di volte quindi mi avvicino poi mi volto verso dietro non so chi mi sta riconoscendo mi giro e vediamo chi mi riconosce più rapidamente tra le due esco fuori campo rientro fuori in campo esco fuori campo rientro in campo mi avvicino moltissimo probabilmente adesso sto sfocando Maurizio correggimi se sbaglio no sono ancora inquadrato perfettamente mi allontano velocemente vediamo chi mi traccia mi avvicino velocemente vediamo chi mi ha tracciato mi allontano velocemente e zigzaggo provando ad avvicinarmi in questo modo un po' lentamente così bene diciamo che appunto è un test astruso completamente astruso non serve a dimostrare nulla di particolare se non mettere a confronto due oggetti che sono tra loro estremamente diversi io non ho potuto vedere quello che stava accadendo lo vedrò nel momento in cui andrò a montare questo filmato nel frattempo avevo Maurizio che era dietro mi faceva i cenni però visto che mi sono trovato molto bene con la Z6 per quanto riguarda la face detection ero curioso di vedere come la C200 si comportasse in una situazione simile visto che comunque sia anche lei un ottimo sistema di autofocus il famoso dual pixel di Canon unito alla possibilità di fare il riconoscimento facciale che ultimamente nel mondo del videomacking è diventato una cosa molto molto interessante spero che questo test diciamo così un po' astruso vi sia piaciuto e vi sia stato di qualche utilità e vi saluto ciao